Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale, io sono Heller e oggi parliamo di capelli crespi. Se anche voi avete questo problema ovviamente vi consiglio di guardare questo video perché vi darò 5 metodi infallibili per far sì che i vostri capelli passino da così a così. Quindi se volete sapere quali sono i miei metodi e quelli con cui ho risolto io questo problema fastidiosissimo e soprattutto anche estetico, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, allora parliamo innanzitutto di uno dei miei argomenti preferiti, ovvero i capelli. Ultimamente sto provando dei prodotti nuovi che mi hanno aiutato tantissimo ad eliminare completamente il crespo e soprattutto a farli diventare così lucidi di base, cioè nel senso che così sono appena, insomma appena fatti. Li ho fatti io a casa, li ho fatti in pochissimi minuti, adesso vi racconterò come e soprattutto oltre a questi prodotti ho scoperto due o tre piccoli accorgimenti di cui prima non sapevo assolutamente niente che veramente ti ribaltano la situazione da così a così. Ecco, quindi sono pronta per dirvi questi miei cinque segreti. Innanzitutto vi faccio vedere questi due prodotti che mi ha inviato Freshly. Ho già collaborato con questa azienda in passato per l'olio per il corpo, se vi ricordate, ed è pazzesco. Quindi quando mi hanno proposto di spedirmi qualcosa per i capelli ho detto proviamo, anche perché ragazzi Freshly è un'azienda vegana e cruelty free, vale a dire che non testa sugli animali e che utilizza prevalentemente prodotti naturali. Io come sapete col canale ho l'opportunità di provare davvero tantissimi brand e tantissimi prodotti e mi è sempre dispiaciuto non trovare un brand vegano, cruelty free e che comunque è attento alla vita e al pianeta e quindi venga incontro a quelli che sono i miei valori di base, che abbia anche una buona resa. Anche perché ragazzi parliamoci chiaro, soprattutto chi fa un lavoro come il mio, dove per esempio appunto sono sempre in video, comunque faccio le foto eccetera eccetera, ma anche le persone che banalmente fanno un lavoro a contatto con il pubblico e non solo, persone che semplicemente si guardano allo specchio la mattina. Vederci con i capelli tutti arruffati, i capelli che sembrano sempre fuori posto, i capelli che sembrano sempre secchi, che ci danno questo aspetto sciatto, brutto, non è bello e purtroppo io non me lo posso proprio permettere, per cui ho sempre dovuto virare verso aziende che non avevano queste qualità. Quando ho scoperto Freshly e l'ho scoperta con un prodotto per il corpo, ho detto ma vediamo se si trovano anche dei prodotti per i capelli che possano effettivamente dare dei risultati ottimi e voi cosa ne dite? Cioè nel senso io mi vedete, sono un tantino entusiasta tra un po' e una paresi facciale, anche perché io coi capelli veramente ci litigo quotidianamente, quindi trovare un prodotto che veramente, anzi due, che veramente mi hanno permesso di cambiare la situazione da così a così, ovviamente per me è stupendo e quindi sono stracontenta di parlarvene. Allora innanzitutto vi voglio parlare di questo, che si chiama Air Growth and Density Treatment. Allora vi faccio vedere innanzitutto la consistenza del prodotto, che è un po' quasi gelatinoso, non è completamente totalmente liquido, è proprio molto 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 ricco. Il suo profumo è molto fresco, probabilmente c'è dentro della menta e la consistenza una volta che lo andate a mettere con i capelli bagnati e appena vi siete fatti lo shampoo non la sentite praticamente quasi. Lo scopo di questo trattamento è quello di aumentare la crescita, la densità e lo spessore del capello, perché? Perché lo va a nutrire fin dal cuoio capelluto. Infatti ragazzi non è che il capello crespo diventa crespo da qua in giù. Il capello crespo nasce crespo nel cuoio capelluto, perché il bulbo pilifero non è in grado di nutrire a sufficienza il capello crespo. Il capello crespo ha la caratteristica di essere un capello che si disidrata molto facilmente, perché è un capello poroso, per cui assorbe tanta acqua, per quello che diventiamo dei muffloni quando c'è il tempo umido, ma con altrettanta facilità la perde e quindi in questo modo si crea quell'effetto veramente antiestetico che tutti noi che abbiamo i capelli crespi purtroppo dobbiamo imparare a gestire. Nutrendo i capelli dalla radice con questo siero, con questo trattamento, che tra l'altro è adatto a tutti i tipi di capelli, non solo a quelli crespi, aumentiamo praticamente lo spessore del nostro capello, quindi aumenta il volume e aumenta anche la forza del capello, ma il capello viene completamente totalmente idratato e nutrito fin dalla radice, quindi il capello che nasce, la parte che nasce è sana, non è crespa e diventa crespa semmai se andiamo a bruciarla, se andiamo a utilizzare prodotti sbagliati sulle lunghezze eccetera eccetera eccetera, però questo prodotto lo trovo veramente ottimo. Ah sul sito dicono che i risultati si iniziano a vedere dopo 45 giorni di applicazione costante, io vi voglio dire la verità, per quanto riguarda la luminosità del capello, la sensazione del capello forte, grosso, sano, ce l'ho avuta diciamo fin dalla seconda settimana e i miei capelli li lavo tipo due massimo tre volte alla settimana. Secondo prodottino anch'esso fantastico è questo Erradiance Keratin Spray, che è uno spray alla keratina che è da utilizzare sulle lunghezze. Questo spray, anch'esso ovviamente vegano, ha pensate sei tecnologie vegetali per rendere i nostri capelli sani, morbidi, luminosi e soprattutto idratati. Non so se ve lo detto che è un districcante la keratina e che si utilizza sulla lunghezza del capello senza risciacquarlo. Anche questo va bene per tutti i tipi di capelli, però sui capelli che tendenzialmente sono crespi fa un effetto davvero molto 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 visibile. Quindi praticamente con questo i capelli sono sani, setosi e luminosi. Con questo diciamo adios al crespo. Tra l'altro questo serve anche per proteggere i capelli sia dal sole sia dal calore che utilizziamo per far la piega, quindi phon e piastra. Rende la fibra del capello molto molto più forte e anche molto più elastica. Vedete come sembrano? Non so se avete mai provato quando avete i capelli molto crespi e fate così, vi sembra che vi si spezzino in mano. Mentre invece con i capelli sani, con i capelli che sono stati insomma aiutati anche dall'esterno a rimanere sani, praticamente voi potete fare così tutte le volte che volete, ma non avete quella sensazione di oddio sto facendo del male ai miei capelli. Il profumo poi è molto naturale, molto leggero, questo è leggermente agrumato, per cui se vi piacciono i profumi agrumati come a me, questo è assolutamente ottimo. Tra l'altro non è neanche molto forte, perché a me sui capelli i profumi forti non mi piacciono, perché ce l'ho proprio vicino al naso, per cui sentirli tutto il giorno, insomma, se sono forti diventa pesante. Io ringrazio ancora Freshly di avermi fatto provare questi due prodotti, sono per me adesso, ah tra l'altro ce ne vuole poco, perché vedete io lo sto usando, lo sto provando da più di due settimane, come vi ho detto mi lavo i capelli due barra tre volte a settimana e guardate, quindi davvero ce ne va poco e l'effetto lo si vede, guardate qua. E quindi voglio ringraziare veramente con tutto il cuore Freshly per avermi dato l'opportunità di provare questi due prodotti e non vedo l'ora magari di provare anche qualcos'altro a questo punto, perché è un'azienda che mi sta piacendo davvero tanto tanto. Ovviamente i link ai prodotti e a tutto quello che vi faccio vedere nel video li trovate qua sotto nell'info box, vi lascio i link diretti e c'è un codice sconto permanente per quanto riguarda i prodotti di Freshly, per cui che è già attivo e rimarrà attivo per sempre, insomma penso, e ve lo lascio qua in sovraimpressione e anche sotto. Detto questo abbiamo parlato di prodotti e vi ho anche anticipato il fatto che il capello crespo purtroppo soffre di scarsa idratazione. Per far sì che il capello non si disidrati in frettissima e non si disidrati troppo, io sto utilizzando soprattutto nelle ultime due settimane, infatti vedete che testa, questo panno in microfibra che è fatto a forma di cappuccio. Si mette su, i capelli rimangono, adesso questo vabbè è pulito dalla lavatrice però, si mette su, i capelli rimangono dentro, poi si gira e si attacca sopra, vabbè se riesco faccio una clip così ve le faccio vedere. Ad ogni modo sto utilizzando questo perché? Perché la microfibra ha il potere di assorbire molto più velocemente l'acqua in eccesso ma senza andare a rovinare il capello, cioè senza creare quell'attrito che poi va a rovinare i nostri capelli e quindi i capelli si diciamo così si asciugano più velocemente dall'acqua in eccesso con questa o al posto che il normale asciugamano che normalmente teniamo in bagno ma rimangono molto molto più morbidi perché l'idratazione interna rimane e perché non c'è attrito. Io utilizzo questo, so che tante persone utilizzano anche le magliette, le magliette, le t-shirt ecco di cotone però siccome io non sono mai sicura allora utilizzo questo anche perché io avendo la tinta purtroppo ogni tanto scarica e quindi lascia delle macchie quindi per evitare insomma utilizzo proprio un prodotto specifico per i capelli che è questo e ne ho anche un altro rosa e ne sto acquistando anche un altro grigio, li trovate anche sul mio negozio comunque vi lascio tutti i link sotto. Abbiamo parlato di idratazione e abbiamo parlato di non utilizzare troppo il calore però come vi dicevo all'inizio del video per le persone come me avere la piega, avere i capelli fatti bene è indispensabile. Io non mi posso presentare a lavoro con la testa disordinata, la testa sciatta, la testa non fatta perché? Perché io lavoro con la mia immagine per cui che si tratti di un video come quello che state vedendo adesso oppure un servizio fotografico oppure la partecipazione ad un evento io purtroppo non ci posso andare con la testa asciugata in qualche modo devo andare con una testa fatta bene e anche se me la faccio io a casa ma comunque devo essere sicura che quando vado ad asciugarmi la testa non devo per forza scegliere tra avere la piega fatta e i capelli rovinati e avere i capelli che fanno schifo e sani ok? Non voglio più scegliere tra queste due situazioni e voglio anche avere dei capelli che non è che esco e al primo segno di umidità diventano così. Per questa ragione appunto utilizzo questi prodotti soprattutto questo ve lo faccio rivedere lo utilizzo anche perché è un termoprotettore molto efficace e quindi quando vado ad utilizzare phon o piastra sono sicura che i miei capelli rimangono protetti. Per quanto riguarda il phon soprattutto perché vabbè la piastra ok purtroppo la piastra è calore estremo e se dobbiamo piastrare i capelli ci sta che utilizziamo il calore estremo magari ecco non passiamo 150 volte sulla stessa ciocca cerchiamo di fare magari ciò che è un pochettino più piccole di passare una volta sola io ci riesco se ci riesco io potete riuscirci anche voi. Quando invece andiamo utilizzare il phon proprio per i capelli crespi non dobbiamo mai metterlo al massimo calore perché proprio perché il capello crespo abbiamo detto perde velocemente l'idratazione ed è proprio la perdita di idratazione che genera l'effetto crespo. Uno dei miei errori più frequenti ma veramente lo sto imparando adesso cioè l'ho imparato poco fa era proprio questo che io proprio per farli asciugare più in fretta perché pensavo che non dovessero stare troppo bagnati per non rovinarsi troppo praticamente utilizzavo calore a chiodo e quindi praticamente avevo sempre il capello magari la piega era ben fatta però purtroppo non avevo questa lucidità nei capelli sembravano sempre opachi sembravano sempre un po boh è come se non li avessi abbastanza curati ecco sembravano sempre un po smortini quindi ho imparato ad utilizzare la temperatura del phon un pochettino più bassa tra l'altro e questo è l'ultimo mio consiglio ma ve lo do veramente spassionatamente con tutto il cuore ho scoperto anche un'altra cosa che le spazzole termiche non vanno bene per chi ha capelli crespi le spazzole che dobbiamo utilizzare noi che abbiamo i capelli crespi sono spazzole con setole naturali normalmente si tratta di setola di cinghiale e sia che utilizziamo le spazzole tonde quelle proprie per fare il phon sia che utilizziamo le spazzole quelle proprie per pettinare i capelli dovremmo utilizzare solo ed esclusivamente le spazzole in setole naturali perché sono quelle che tirano maggiormente il nostro capello senza però portarlo a perdere la sua lucentezza la sua forza la sua corposità e la sua idratazione per cui nel momento in cui ho scoperto tutte queste cose qua sono diventata una persona felice dei propri capelli vabbè ragazzi io spero di avervi dato dei buoni consigli fatemi sapere quali conoscevate anche voi qui sotto nei commenti e soprattutto se ne conoscete di nuovi così io vi leggo tutti se questo video vi è piaciuto e ne volete altri sui capelli perché ho scoperto un sacco di cose nuove ovviamente vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di LR Channel a me non rimane che mandarvi un bacio e tantissimo ma tantissimo amore vivo sempre insieme ai miei capelli oh vivo sempre insieme ai miei capelli oh vivo molto insieme ai miei capelli o SSC grande